Buon pomeriggio, in apertura la situazione a Lampedusa dove non si fermano gli sbarchi. È arrivata anche una donna senza vita, l'hot spot stracolmo nonostante i trasferimenti disposti dalla prefettura. Allora noi andiamo sull'isola dove c'è il nostro inviato Giorgio Ruta. Giorgio, sono giorni difficili e per tante ragioni. Sì, siamo arrivati a Lampedusa da poco più di un'ora e già abbiamo assistito qui al molo Favoloro a tre sbarchi. L'ultimo pochi minuti fa dalla motovedetta alla guardia costiera sono arrivati una cinquantina di migranti. Lassù hanno la coperta termica addosso, è arrivata pure un'ambulanza per soccorrere una donna che stava male. La pressione è forte sull'isola, nella notte sono arrivati più di cento migranti. Su un barchino c'era pure una donna senza vita, l'ultima vittima del Mediterraneo. La pressione è forte sull'hot spot, l'hot spot dell'isola dove ci sono più di duemila persone, come dicevi, a fronte di una capienza di quattrocento persone. E proprio per questo è arrivato sull'isola, l'abbiamo visto pochi minuti fa proprio qui al molo, il capo dipartimento dell'immigrazione del Ministero dell'Interno Valerio Valenti accompagnato dalla prefetta di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Va risolto il problema, l'emergenza dell'hot spot che è in tilt. Il tempo è buono, il mare è piatto. Nelle prossime ore si aspettano, si attendono ancora arrivi. Da Lampedusa al momento è tutto, a voi la linea.